Non mollare, siamo gruppi Contessa. Contessa è la mia vita che continua a pregare il mio sogno. Vi voglio tutti bene e vi grazie per l'affetto, la vicinanza e la speranza che potrà essere ancora utile per la mia umiltà, per il mio limite, ma anche per la mia grande passione di identità. Un'identità che non è riuscione, ma è consapevolezza della grandezza dei nostri padri e che non è tradizione perché è il punto di una cedere, ma che tiene vivo il fuoco, fuoco del nostro simbolo, fuoco della nostra fede, fuoco della nostra grandezza. Grazie. Grazie.